Ebbene si ragazzi eccoci qui ancora una volta su Foot17 per la Road to Division 1 Siamo in Divisione 5, oggi ci faremo ben 3 partite Nella scorsa puntata abbiamo perso le nostre vittorie consecutive Abbiamo uno storico con 29 vittorie e 3 pareggi, 6 scompite, 5 titoli vinti Andiamo a trovare il primo avversario, come sempre la squadra è sempre la stessa Signori abbiamo trovato un avversario italiano con una squadra super mega veloce A Muriel, a Salah, a Anderson, a Amsic, mamma mia Ok Mancio batte, attenzione, anche questo è buono e se ne va nell'area di rigore, è finta Ancora lui, il tocco all'indietro, il tiro e l'ha lisciata E dai, deve stoppare prima il pallone sto cretino Tira dalla distanza e colpisce il palo C'è Sturaro, palla al piede, ancora Sturaro, si accentra, ecco il tocco Attenzione che scatta, c'è Badu, 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 Badu 1-0 FC Dark Knight al ventunesimo Seconda occasione per noi, seconda occasione per noi Noi arriviamo al gol mentre il nostro avversario ha colpito il palo Mamma mia Triangolo, triangolazione incredibile Passaggio all'indietro, anche questo tocco è buono Anche questo è buono, anche questo è buono Mamma mia cosa abbiamo fatto e poi ce lo divoriamo il gol Finisce il primo tempo, 1-0 per noi, partita equilibrata Finalmente un avversario molto bravo Anche se non ha mai tirato in porta e noi abbiamo un possesso palla del 60% Va bene Tira, ma non ci credo Calcio d'angolo, Florenzi, mamma mia che ci siamo divorati Finalmente 2-0, meritatissimo Manzucheccia Mamma mia questo non è mai arrivato in porta Non è mai arrivato in porta È bravo a difendere, ma niente di che poi Pallone in mezzo, e così, no Mamma mia gli rubiamo il pallone Il passaggio, il tocco, la palla rimane lì Tiro Via, via, 3-0 Zero tiri in porta del nostro avversario Una sola traversa Mamma mia, ha giocato Una volta in porta Ha provato a tirare dalla distanza Finisce lì L'FC Dark Knight vince 3-0 Finisce 3-0 Incredibile Incredibile Adesso di sicuro se un mio iscritto Mi scriverà sotto nei commenti Sei scarso, perché è lui che ha perso Siamo arrivati a ben 9 punti Un solo punto per Levarci di mezzo La retrocessione Prossimo avversario Un altro italiano con una squadra Che cos'è? Una squadra tedesca Valutazione 86 Intesa 100% Questo è fortissimo Questo è fortissimo E qui Forse Non vinciamo Anzi Togliamo il forse Cioè se batto questo ragazzi Mi faccio la statua da solo Dovrei avere già più o meno 600 statue Però Iniziata Va bene Va bene Va bene Va bene Calma 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 Leno Devo giocarmela Devo gioca No 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 Il lag Proprio nel momento che dovevo passare Ma Non laggare Ogni volta che ho il pallone Ho la fibra Ho la fibra Va bene Va bene Come ti ho tolto il pallone Come ti ho tolto il pallone Impara Attenzione Vinta Saltiamo l'avversario Il passaggio L'ha vinta Il tiro Perché ogni volta che tiro lagga Perché ogni volta che tiro lagga Questa partita la dovevo perdere per forza La palla è stata deviata Quindi ancora calcio d'angolo Ancora Florenzi Sulle mani di Leno Attenzione c'è ancora Mandzukic Mandzukic di testa per Sturaro Sturaro al centro per Astori Astori molto bene per Keita Keita si addormenta Cade Non c'è fallo Quindi contropiede Attenzione i contropiedi Adesso lui cercherà di cambiare subito fascia E il difensore non si deve addormentare Contro Obama Young Gula mamma da Dai 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 Mettila in mezzo Dai Tienila Il passaggio Anche questo Tira Mandzukic Tira Tira Non ci credo Non ha tirato Dai 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 Leno maledetto Leno maledetto Finisce il primo tempo Il nostro avversario non è stato pericoloso Meritavamo il vantaggio Entrato nell'area di rigore In contropiede Ma sono riuscito a contrastarlo Così Così Va bene Tirala Nooo E' stata deviata Ma che culo ha questo Pallone in mezzo Dai 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 Nooo Madonna perché sbagliano i passaggi in questo secondo tempo Perché sbagliano i passaggi Mamma mia Vabbè dai Lo vuoi far vincere Dai Ha tirato Ha tirato da casa sua Ha tirato Ha tirato da casa sua Ha tirato da casa sua Com'è fatto a scendere quel pallone così Ma va a cacare Dai Mo' si deve bloccare Mo' si deve bloccare Va bene Va bene Dammi una vittoria a tavolino Così lui ha Hai visto Si è scollegato Mo' me la damme Mo' me la damme La connessione con il tuo avversario si è interrotta Attenzione Vediamo se ci dà la vittoria No no Annullata Annullata Ma va Cioè ho fatto una partita a vuoto E non ha dato né la sconfitta né la vittoria Questo è un altro italiano Solo italiani Ok Ha una squadra Che cacchio di squadra è Una squadra inglese Che cos'è Una squadra inglese Si A Bardi Ha due giocatori veloci Sulla fascia E Coutinho Quello Poi a Ramsey Ebbene Tutte squadre forti FC Dark Knight Contro giocatorissimi Vediamo se sono giocatorissimi Questo gioca bene Questo gioca bene Ha spazio E quasi quasi Già segnava Bene 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 Mettila in mezzo Ok Manzuchiccia Sararararara 1 a 0 Anche contro le squadre forti E l'avversario di prima Che è stato sfortunato Perché la connessione Si è interrotta Ha segnato a culo Ha segnato a culo Da casa sua Aveva segnato Oh E guardalo Guarda come dondolo Guarda come dondolo Con il twist Le tue gambe tremano Guarda come la prendi Se si leva Baduku Piz Addio 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 Amico Addio Ora ti devo Burgare Ma lo script Ha detto Che non è così Mori Metto in mezzo Il pallo Non vuole più segnare Spero tu abbia capito Spero tu abbia capito Dai Dalla Guarda Manzuchicci libero Dai 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 No L'ha data troppo sul portiere Ma è bestia Che roba Che sarà Che sarà Che sarà Che sarà Della tua squadra Chi lo sa Posso far tutto Ma se lo script Non mi face Segnare Guarda che non entrava Fangulate Finisce il primo tempo Risultato sull'1-0 Questo è il miglior avversario Però Perché ha la miglior squadra Ecco il contropiede di merda Il contropiede di merda Mannaggia Questo non sta facendo niente Monda va a segnare Meno male che so usare i difensori Va a cagare Mannaggia Continua ad attaccare Questo deve segnare per forza adesso E' così che vuole il gioco E' così che vuole il gioco Vabbè poi se fa sti passaggi Devo rischiare Devo rischiare Esce Mandzukic Troppo lento Stanco Entra i turbe E' dobbiamo fare per forza così Vai 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 Benissimo Benissimo Mettila in mezzo Ok Vai Uuuuuuuu Uuuu Uuuu 2-0 Oh E' non sapevo che dire Oh E' C'è 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 Ciao Amico mio Amico mio No No dai Non ci credo Non mi ha tirato Tipa Guarda Sta Sta rallentando i comandi Non riesco più a passare velocemente Adesso prendo gol Guarda va Mezz'ora Finisce 2-0 Comunque è stato un ottimo e degno avversario Va bene così Vediamo un po' Siamo arrivati a 12 punti Quindi La retrocessione Ce la siamo levati davanti E adesso Dobbiamo puntare alla promozione E mancano 5 partite E ci mancano 4 punti Facile Va bene ragazzi Io penso di chiudere qui questa puntata Nella prossima cercheremo di arrivare in divisione 4 Mi raccomando Se qualche italiano che ho affrontato E un mio iscritto Adesso non venite sotto nei commenti a scrivere Sei scarso così colì Avete perso Silenzio A parte questo ragazzi Io vi do un bacione Un abbraccione Ciao a tutti da Pierre Dark Knight 91 Nel nome del padre Del figlio e dello spirito santo ragazzi Mamma mia Scena epica Preparatevi Chiede il login della dottoressa Young Non fa niente Stami dietro Adesso Bane Bane Attenzio Fatemi scendere Chi è stato? La dottoressa Young Quella bruca Mi ha succhiato Che è stato?